Padre Angelo Pintacorona ha ufficiato la funzione religiosa di estremo saluto ad Alessandro Famai e Angelo Bonvissuto, i due licatesi di 24 e 29 anni morti in seguito all'incidente stradale avvenuto giovedì nei pressi del bivio di Torre di Gaff sulla strada statale 115 quando a scontrarsi per causa ancora in fase di accertamento furono il pick up su cui viaggiavano i giovani e un pulmino con a bordo un gruppo di insegnanti provenienti da Gela. Il funerale si è svolto nella chiesa patronale di Sant'Angelo gremita in ogni ordine di riposto. Più di 3000 i licatesi che hanno voluto augurare l'eterno riposto ai due giovani. Piena all'esterno anche piazza Sant'Angelo. Lunghi e spontanei applausi hanno salutato l'uscita delle due bare marroni dal santuario di Ocesano. Il corteo si è poi mosso alla volta della casa mortuaria di Marianello. Tantissimi giovani parenti e amici delle vittime che hanno preso parte ai funerali ma c'erano anche tante persone che non hanno conosciuto Angelo e Alessandro di presenza ma che hanno comunque voluto essere vicini alle famiglie in questo momento di disperazione e difficoltà. Toccante la funzione religiosa di padre Pinta Corona ai limiti della commozione. Diversi striscioni raffiguranti i due ragazzi stretti in un abbraccio sono stati esposti fuori dalla chiesa dagli amici più intimi con la scritta Angelo e Alessandro sarete sempre nei nostri cuori. E la mente dei presenti è corsa immediatamente a Paolo Todaro e Sara Camilleri. La coppia di giovani fidanzati morti lo scorso 16 febbraio sempre a causa di un incidente stradale verificatosi sempre sulla statale 115 ma in un'altra località poggio di guardia in direzione di Gela. Una tristezza indescrivibile non poteva essere altrimenti ha corso per tutta la piazza fino all'uscita delle due bare quando la folla si è sciolta in un lungo e commosso applauso. Questa la cronaca della seconda giornata di lutto cittadino in 40 giorni. Tanto è trascorso dei funerali dei fidanzati Paolo e Sara ospitati in Chiesa Madre.